L'avevamo lasciata così, smontata, in attesa di nuovi pezzi, e una volta arrivati e montati, una partita a FIFA come test che segnava la rinascita per la PS Vita, con messi e compagni a prendermi a pallonate, che gli ho restituito in una vittoriosa rivincita, ma poi il disastro. Ho ridotto la PS Vita in questo stato. Cosa è successo? Come è stato possibile? Ora ve lo racconto. Ciao a tutti e a questo nuovo video. Lo so che volete sapere, lo so. La protagonista del video, la PS Vita, abbiamo visto in uno dei precedenti video che la PS Vita sembrava che giocasse da sole, il personaggio andava sempre nella stessa direzione, era un problema legato alla levetta di sinistra ed inoltre abbiamo scoperto che anche la scheda elettronica del lato sinistro è anch'essa danneggiata. Per chi non avesse visto il video lascia il link nella descrizione. Ho poi comprato i pezzi che mi sono arrivati rientrando anche nel budget che vi avevo detto, ovvero 25-30 euro e addirittura sono riuscito anche a comprare entrambe le schede elettroniche sia del lato sinistro che del lato destro della PS Vita. Arrivati i pezzi, poi ho smontato di nuovo la levetta di destra perché non mi era piaciuta come l'avevo chiusa nel precedente video. Rimontata in modo da fissare bene i pezzi, altra cosa che ho fatto è stato rimuovere residui di lavorazione presenti sulle schede elettroniche. Guardate qua, non lo so perché mi sono arrivate così. Comunque tagliando con precisione la scheda sono riuscito a rimuovere i residui e poi ho iniziato ad assemblare di nuovo il tutto mettendo al loro posto le levette, montando le nuove schede elettroniche e pulendo di qua e di là un po' l'interno della PS Vita perché aveva ancora dello sporco residuo. Ora non cambia più da sola l'orario e la data, anche il menu principale funziona correttamente anche con la levetta e come visto nell'intro funziona correttamente anche nei giochi e l'esempio è stato FIFA. Ma nello scorso video non vi avevo detto che avevo anche un altro obiettivo e questo obiettivo era rimuovere i graffi dallo schermo della PS Vita. Girando in rete sono venuto a conoscenza di questo prodotto. Si chiama PoliWatch e le persone lo usano per rimuovere graffi da orologi, da schermi degli smartphone e leggendo i vari casi di successo ho deciso di provarlo sullo schermo della PS Vita. Dopo averlo sparso sullo schermo della PS Vita ho iniziato a strofinare e ho fatto la stessa cosa anche sul lato posteriore della console perché anche il lato posteriore della PS Vita che è touch è graffiato e perciò ho voluto applicare lo stesso processo anche qui. Sto finendo per qualche minuto al termine del processo se sul lato posteriore della console il risultato è stato abbastanza soddisfacente sul lato dello schermo invece non mi è piaciuto. I graffi comunque si vedevano in controluce quindi ho pensato a come poter rendere il processo più efficace e mi era venuto in mente il Dremel. Per chi non conoscesse il Dremel oppure utensili simili come questo è un utensile multiuso che può essere adoperato per diversi tipi di lavori ad esempio taglio, lucidatura. Nel caso della PS Vita avevo pensato che poteva essere utile per lucidare lo schermo ho usato il disco in filtro insieme a PoliWatch E. Puzza di plastica bruciata, PoliWatch ovunque addirittura l'ho ritrovato sull'ombrello che uso per le riprese con risultato finale che il disco in filtro ha tra virgolette bucato lo schermo. Queste parti bianche probabilmente è la plastica dello schermo che si è sciolta e dopo ciò ci è voluto un po' di tempo per riprendermi. Conclusione. La rimozione dei graffi dallo schermo della PS Vita era un esperimento e un esperimento può andar bene oppure male come è capitato e da queste situazioni bisogna prendere il lato positivo. I problemi che affliggevano i movimenti durante il gioco con la PS Vita sono andati via come abbiamo visto cambiando la levetta e l'obiettivo dello schermo senza graffi verrà comunque raggiunto o ordinato tutta la parte superiore che include anche lo schermo OLED. Ebbene sì la prima versione della PS Vita che abbiamo qui rispetto alla versione 2000 monta uno schermo OLED. Scrivete, commentate e soprattutto lasciateci messaggi di incoraggiamento per aiutarci a superare questo momento difficile. Non ti preoccupare e usciremo ancora più forti. Ciao!